che durante questo venerdì nero potete dormire pieno da tutta la regione rendendo le venditorie lo definiscono il super l'influenza stagionale in anticipo sembra sembrati di una variante sconosciuta dell'influenza è un'altra dura realtà mi sentivo un po strana secondo alcuni quotidiani ci sono segnalazioni non confermate siamo preparati per una lieve epidemia di baiolo non è una situazione di emergenza una città americana completamente quando siamo stati attivati la situazione è una critica peggio del prezzo visto siamo milit agenti segreti altamente attestati ci chiamano solo quando non c'è più speranza non abbiamo regole non abbiamo limiti dobbiamo proteggere ciò che rimane siamo i tuoi colleghi siamo i tuoi vicini potremmo essere i tuoi amici ma quando ci chiamano ci lasciamo tutto alle spalle noi siamo la divisione salve ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi voglio iniziare questa serie le division sempre la solita serie di tom però c'è una bella novità praticamente è successo un virus a new york quindi tutte le persone si sono infettate quindi il presidente ha deciso di mettere in quarantena la maggior parte della popolazione nello stesso tempo ci sono state si sono create delle zone dei disagi a livello che ognuno fa quello che vuole quindi rubano saccheggiano violenza destra e sinistra c'è chi più ne ha e più ne metta e purtroppo sono stati costretti a a chiamare questa divisione che siamo noi siamo delle forze speciali per riuscire a risistemare un pochettino tutto quindi ragazzi seguite questa serie perché sinceramente veramente veramente bella quindi il nostro obiettivo è riuscire a a trovare che ha causato questa pandemia allora vediamo che abbiamo solo questi solo questi formati sinceramente poi base capelli vediamo che abbiamo allora andiamo sempre a doppio taglio facciamo un po' di barba diciamolo così tratti distintivi vediamo che cicatrice abbiamo qualche cicatrice x vabbè no pittura e foglia di guerra bah mi piace tatuaggi fanno mettere là sul collo allora vabbè mettiamoci sto tatuaggio cicatrice abbiamo la x va bene così accessori cosa abbiamo i piercing orecchini piercing sotto il mento e orecchini nel naso allora io ci metto gli orecchini alle orecchie invece allora di base abbiamo solo questo come viso ah io direi questo mi sta più simpatico questi geniamenti capelli facciamo corto un po' di barba colore ai capelli un po' sul chiaro ok va bene ragazzi direi di andare con me di proseguire autorizzazione agenda intelligenza software per l'analisi computerizzata attivata i sistemi ISAC sono operativi ripararsi presso l'indicatore per iniziare la verifica delle armi avvio test balistico sparare ai messaggi evidenziati perfetto allora così si spara ricaricare sempre quadrate cerchi che fa ah scavalca allora per imbugnare l'arma a fianco ah perfetto allora se e come si cambia scusa premi due volte ah ok avvio test balistico sparare ai passaggi evidenziati bordo agente sono luis chang comandante della sezione nord est della divisione la tua attivazione è dovuta alla pericolosa instabilità di brooklyn l'ISAC ci ha aggiornato sui tuoi progressi procedi al rifugio più vicino per ottenere la dotazione completa ma segui l'indicatore agente ho conferma dell'arrivo dell'agente paylau vai a parlarne quando entri perfetto quindi dobbiamo andare da paylau lo stesso allora saliamo stai entrando in un'area sicura quadrate quindi questa qua ragazzi è anche un gioco online quindi queste qua sono tutte persone vere dovrebbero essere infatti informazioni giocatori livello a 35 cose non so ancora bene come funziona però mano a mano cercheremo cercheremo di scoprirlo allora io devo andare no stiamo perdendo il quartiere i reottosi avanzano stanno venendo da questa parte ci serve dell'agente lì non hanno chiamato solo me sono paylau della divisione paylau è stata attivata insieme a me parte della seconda ondata non so che cosa sia successo alla prima ondata ma purtroppo abbiamo ancora molto da fare abbiamo pochi dati e non possiamo assolutamente farlo non finché manata ne bloccata e bruco il mio indilico quelli come noi sono l'ultima linea della resistenza forse sapremo qualcosa di più dopo aver incontrato il comandante datei sulla situazione su chi trasforma le strade in una zona di guerra su qualunque cosa possa farci capire come muoverci ora con permesso tenente l'agente Izen e la sua squadra si stanno occupando dei rapporti se vuoi trovare una zona calda chiedi a lui completa attivazione al terminale per abilitare l'attrezzatura e lo stato operativo della direttiva 51 perfetto quindi dobbiamo andare noi qua identità confermata attrezzatura scelta attivata missione secondaria scoperta allora opzione va la schermata abilità panoramica missione dove è la schermata abilità scusa devo tenere premuto mh vabbè ha la segnazione automatica panoramica missione missione secondaria missione secondaria trova le scorte di morfina oppure abbiamo ma oh a posto allora recupera le scorte di cibo o se no salva i civili allora facciamo andiamo a prendere le scorte di cibo come prima missione eh devo prendere qualcosa qua c'è qualcosa per le armi allora venditore equipaggiamento vediamo che abbiamo meglio della città proprio qui allora venditore equipaggiamento robustezza acquista ma noi abbiamo a portafoglio niente ok magari ci vediamo dopo eh qui abbiamo rifornimenti perfetto le granate si spareranno con l1 sicuro or1 agente i riottosi hanno rubato le scorte di cibo della settimana dal centro di distribuzione di Brooklyn Heights cercherò di rivendere la roba all'agente che muore infatti si approfittano della gente che soffre riprenditi quel cibo c'è praticamente è una guerra qua dove ti giri giri allora premio se ne va la schermata abilità inventario mappa notizia quindi abilità quindi noi abbiamo la sono disponibile delle abilità le abilità ambiano le tue opzioni tattiche attiva un'abilità allora invia un imburso che identifica nemici alleati attraverso parete ripari tecnologie sicurezza uno scudo balista in grado di assorbire danni quando attivo puoi imbugnare solo l'arma da fianco scusa spara una bomba con detonatore invia un imburso degli alleati facciamo medico dai assegna prima a posto a posto vabbè obiettivo completato certo perché non devo entrare ora c'è una possibilità che i nemici lasciano bottino raccoglie e sarà ma io per entrare scusa allora quadrato mi nascondo ah ma io da qua dove siamo cosa è assurdo allora premi vicino all'ostacolo per arambicarti perquisisce rifornimenti scomparsi identificati segui il radio a faro 16 metri come siamo qua possiamo andare avanti a vicino a luogo indicato a lagga lezione non emite no area in sicurezza ok se volerò andata a morire questa non lo posso perquisire si ah no quindi vuol dire che non deve avere niente allora mark attenzione forze che in avvicinamento la testa è andata no 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 perfetto e quindi devo cercare le scorte eccole qua la marca allora le gette saccheggiate finiscono il pano quindi noi abbiamo l'inventario perché e abbiamo di nuovo la corazza infatti corazza 12 quindi ce la equipaggiamo subito va bene c'è qualcos'altro qua posso prendere no allora vediamo facciamo qualche altro obiettivo aspetta un momento allora panoramica missione andiamo a fare questa di qua che praticamente andare a prendere la morfina o se no abbiamo salva i civili quindi il nostro obiettivo è andare a salvare queste persone questi ostaggi nella banca c'è si vede che praticamente tutto si è andato a rotoli quelli sono civili probabilità colpo minaccia rilevate due dove sono? non hai idea di quanto siamo grano bel natale c'è stato quest'anno qui a new york 120 metri praticamente però è bellissimo dai graficamente molto più che reale certo hanno avuto anche tempo di buttare le mani come le spazzature ai piedi e piedi ma comunque qua ci sono negozi aperti chissà se posso entrare a cercare oggetti cose comunque ancora siamo all'inizio quindi è come una specie di tutorial questo controlla nella spazzatura allora accedi alla galleria dove me ne sto andando? allora c'è pericolo? no allora indireggiamo obiettivo completato accedi al cortile ma nella testa non abbiamo niente scusa come copri capo o qualcosa perché mi sento un pochettino freddo sinceramente alla testa non c'abbiamo niente corazza non abbiamo niente corazza, 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 corazza dotazioni personaggio dice le cose la borsa gli oggetti che posso prendere ah cappelli non ce ne abbiamo niente vabbè come mi sembra raga? ah è un tipo certo guarda che cicatrice forse non glieli dovevo mettere allora proseguiamo di qua ah le scalco saliamo attenzione rilevata presenza ostile no 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 ah te faccio te faccio venere io sto sparando nel muro sto sparando qui il vero è an**o oh vieni qua dove scappa quindi questa non è niente non ho controllato qua anche questa non è niente posso credere ah qua c'è zain prendi tutto ma gli compara all'alto la cosa vabbè comunque ho capito infatti qua c'è ho preso le munizioni e non c'è niente qui non abbiamo niente andiamo avanti si si tutta bene ah ma non c'è nessuno pensavo che erano i nemici ah a posto ok ehi allora grazie mille è stato un incubo ora devo andarmene da qui aspetta abbiamo raggiunto il secondo livello anche c'è qualcosa qua c'è una cassa vediamo maschera antigas ok saccheggia tutto vediamo com'è questa maschera antigas viene mi confondo sempre allora inventario noi abbiamo la corazza questa maschera ah ma non l'equipaggia però peccato corazza uno zaino più grande dovrebbe essere aumenta solo la robustezza e poi abbiamo questa sblocca a livello e qua che abbiamo ah abbiamo anche una shotgun ma ne posso equipaggiare solo un'arma si vabbè teniamoci per ora questo sicuramente si possono anche modificare dotazioni personaggi vabbè dai andiamo avanti allora armi munizioni siamo messi più che bene quindi possiamo proseguire allora andiamo a fare l'ultima missione che rimane ordine trova le scorte di morfina agente i riottosi hanno rubato una cassa di morfina forse proveranno a venderla o la useranno c'è gente che soffre e ha bisogno di quelle medicine vedi di recuperarle subito non mi preoccupa facciamo di tutto per salvare la popolazione che resta forse scostretti a premere cerchio vabbè quindi ha 140 metri questi sono un pericolo? no ma dicono qualcosa? no allora sapete che come ambientazione è un po' tetra avete bisogno ci vede mettiamo a rischio tutto au no vabbè dai stai attendo allora vediamo come siamo combinati qua diamo un'occhiata perfetto allora se io miro la premio x ci va solo è spettacolare bella sta cosa che è lì che è l'energia vabbè 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 marchiamo difendi l'area ci avviciniamo alla tua posizione ok ma che sto combinando ottimo lavoro agente porteremo le vicine serini saranno davvero bambini meno male che si suicida uno solo quindi? sono morti? perfetto ah questo c'ha qualcosa? no allora vediamo che c'hanno questi parte elettronica questo non è niente diamo un'occhiata qua va bene ragazzi quindi possiamo ritornare fai rapporto sui progressi dell'ang dell'agente a zain se allora facciamo una cosa ottimo lavoro agente grazie per tutte le vite che hai salvato perché non torni qui? abbiamo qualcosa per te va bene ragazzi io direi che per questo episodio ci possiamo anche lasciare qui dai se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e commentatevi commentate fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie grazie tanto ciao raga bye bye ciao